L'importante per un'integrazione che sia degna di un nome come questo si passa attraverso la conoscenza della lingua. È fondamentale per uno straniero che viene in Italia la conoscenza della lingua e la conoscenza delle leggi che ci sono in questo Stato. C'è un'associazione che promuove questa metodica e questo corso, come si chiama, dove ci si può iscrivere e chi sono i docenti. Allora, uno dei docenti sono io, ovviamente, ma è lo Stato italiano che si organizza. Noi dipendiamo direttamente dal Ministero della Pubblica Istruzione, dal MIUR, proprio perché siamo stati incaricati di questo settore. L'educazione degli adulti di un tempo si è allargata a queste nuove esigenze di stranieri che stanno arrivando che hanno bisogno minimo della conoscenza della lingua. Attualmente siamo a Lucrezia, nell'istituto comprensivo Marco Polo, quindi per chi volesse può già chiedere informazioni presso la segreteria tutte le mattine. In più, il pomeriggio già sono iniziate le lezioni, poi abbiamo Fano e lì sono ospite dell'associazione Mille Voci, io ed altri colleghi, e facciamo scuola proprio vicino al campo di aviazione, di fronte allo stadio c'è una stradina che porta fino in fondo, era una vecchia scuola materna e siamo lì, abbiamo già iniziato. Ci sono dei riferimenti, un numero di telefono dove qualcuno si può rivolgere? Sì, per quanto riguarda la sede di Fano, il 338 305 1082, questo per tutti gli stranieri che arrivano, che hanno bisogno dell'attestazione di A2, uno dei requisiti importanti per avere poi il permesso di soggiorno, oltre al lavoro, la residenza, la buona condotta, eccetera.